Un progetto che ha voluto mettere l'uomo al centro dei processi e dei prodotti da realizzare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Il potenziale è fortissimo, c'è bisogno di un catalizzatore, di un elemento che portato all'interno di queste aziende scateni il potenziale. Il messaggio che la Sussistemi ha voluto anche lanciare è che per poter lavorare bene insieme bisogna stare bene insieme. Poi la possibilità di riscoprire e scoprire volonti nuovi, punti di vista nuovi, rispetto a persone. La Sussistemi ha voluto sentire che gli altri veramente ti sorreggevano senza lasciarti andare. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Riceviamo un applauso e l'apprezzamento che questa cosa è servita realmente. È stato un progetto che spero dia vigore ed impulso ad una rinascita delle organizzazioni pugliesi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!